Ragazzi dei tesori di Federica Pia, allora mi avete chiesto di farvi vedere i mini loop visto che siamo in estate e hanno anche dei prezzi veramente più bassi quindi a settembre torneranno i prezzi normali perché adesso c'è il boom delle nascite vi faccio vedere qualcosina, i nostri grandi tesorini allora guardate, questo è un mini loop bellissimo, è una fatta perlata sono conigli che hanno 60 giorni sono coniglietti pronti, noi li diamo via naturalmente solo con il liberto sanitario tutti completi il vaccino di un anno fatta perlata che ho sia il maschio che la femmina poi adesso ve ne faccio vedere degli altri vieni un po' tu qua ecco qua, questo è un blu di Vienna adesso mi avete chiesto in tanti anche le coppie, di fare coppie ho altre cucciolate sempre di blu di Vienna puri puri, quindi chi vuole fare una cucciolata con blu di Vienna non con sanguigni naturalmente c'è la possibilità di farli questi sono conigli coccoloni se avete dei bimbi, questi qui veramente ehi patatino, vuoi andare dalla mamma l'ho tolto dalla mamma questo ha gli occhi blu adesso vi faccio vedere questa che per me è fantastica è la mia orsetta questa è la dorsetta sono di diverse mamme quindi vi faccio vedere quelli che ho rimasto che sono veramente fantastici questi sono coniglietti docili diventano come i bambini ossia ariete naturalmente vi faccio vedere ariete e che chi è venuto ho fatto vedere ancora questo qua guardate questo cremino qua questa è la star del momento tutti me lo chiedete però è ancora disponibile crema mini loop crema sono conigli che hanno 65 giorni sono veramente piccolissimi scusate che il mio trucciolato che uso da fondo per le gaffie ce lo portiamo un po' dietro tutti in regola col suo libertino sanitario io ti mangerete che sei bella poi abbiamo un coniglio che ha un colore particolare vediamo se lo trovo qual è quello smoke no non ce l'ho qui è questo eccolo qua eccolo qua questo è un coniglio particolare ragazzi ha una colorazione particolare per chi è esperto in coniglio ve la dico perché anch'io sto studiando tutte queste cose la colorazione si chiama smoke pearl io dicevo foccato vedete ha la pancina più chiara sfumato il nasino chiaro le zampine chiare e questo si chiama smoke pearl è una riete questo smoke pearl voi ragazzi ho altri conigli basta aspetta metta un attimo papà scusate ho chiesto a mio marito di aiutare infortuna che c'è lui che mi fa i video allora ad estate i conigli hanno prete più bassi non perché hanno meno qualità anche avete più scelta di colori e le stesse caratteristiche le stesse garanzie quindi libertà sanitario anticocidiosi trattamento anticocidiosi chi lo vuole c'è l'antiparassitario controllo dei denti per evitare il massio inverso e il vaccino e il vaccino vale in un anno e dopo naturalmente abbiamo piacere di avere un rapporto continuativo con voi e chi vuole coppie adesso ci sono perché d'estate appunto c'è questo boom delle nascite e abbiamo molte più scelte ci trovate a Massa Lombarda ma possiamo raggiungervi con i nostri coniglietti con le staffette o con noi anche fuori regione ciao a tutti ciao ragazzi ciao a tutti